Ciao ragazzi, benvenuti in questo video, video del weekend, quindi sarà un video più breve e quindi facciamo una partita a 3 minuti più 2 secondi a mossa Ok, ha accettato questo Antonio Nobrega, portoghese e ci gioca la variante Alapin, questa volta facciamo la nostra variante da Blitz Cioè, questa adesso lui giocherà a D4, mi aspetto, no, non ha giocato D4, quindi ci dà la possibilità di prendere il centro con E5 Che è una possibilità interessante, il nero sembra avere un'ottima posizione da nero Ok, tiriamo fuori i pezzi, vediamo un po' cosa succede, il fiero F5, il fiero E7 Magari questo pedone in D3 adesso sembra anche parecchio debole perché, vedete, la struttura del nero controlla l'eventuale spinta D4 Quindi il pedone D3 è abbastanza bloccato Quindi immagino di poter giocare anche per un'aggressione abbastanza rapida al punto D3 Perché no? Anche con un arrocco lungo Arrocco lungo sembra un po' rischiosa ma mi tutela di più rispetto a torre D8 A minaccia del tipo cavallo B5 e cavallo C7 Ora cavallo B5 non avrebbe senso G per F6 qua non è un grave problema perché abbiamo arrocco di qua La colonna G può essere usata come, diciamo, ponte per attaccare Ponte, non lo so, vabbè E qua D3 è in presa quindi me lo posso mangiare Why not? Ho deciso di giocare per l'attacco o per... No dai, mangiamoci sto pedone e buonanotte Se cambia le donne anche va bene perché con un pedone in più va sempre bene Cambiare pezzi Donna B3 E ok, donna B3 attacca F7 Non credo che sia troppo un problema anche perdere quel pedone non mi interessa troppo Quindi giochiamo per l'iniziativa torre G8 che minaccia donna per F3 E qua però devo stare attento perché su donna per F7 Cioè se lui mangia non posso mangiare in F3 se no mi mangia la torre E qua la donna non è mai in presa perché Pedone G è inchiodato Quindi torre D1 Torre D1 però ha ignorato completamente la mia minaccia Penso che se la sia direttamente persa in realtà Facciamo una piccola controllata finale perché Questa qui è una mossa che se funziona vince Se guadagna un pezzo minaccia matto E infatti ha abbandonato Ok quindi 13 mosse partita al volo Quindi oggi carichiamo questo video per il weekend Proveremo a caricare un altro video anche domani Anche se siamo un po' tutti di fretta Sessione cose Io torno a Vicenza Insomma sarà un bel casino Però male che va Ci vediamo tutti lunedì Ciao ragazzi